ciao a tutte da una favola di fili il video di oggi è imparneato sui lavori che ho fatto nei mesi di settembre e di ottobre e per questo non vi ho fatto un tutorial quindi oggi ho deciso di farvi vedere i lavori che ha fatto in questo periodo il primo uno dei lavori è questo cappellino per una bimba di tre anni sembra un po grandino ma effettivamente le misure sono esatte fatte con il punto puff con i suoi parorecchie e i laccetti e l'ho decorato intorno intorno con un filato di quelle a pallini ecco non saprei come si chiama questo filato io ho comprato un filato dolly della fil market meglio ancora della mafile come marca che sarebbe questo filato questo con i pallini invece questo sfumato che è un pura lana per bambini si chiama agadir se non sbaglio no azimut comunque vi metterò tutto sotto il video e insieme a questo berrettino ho fatto questa sciarpina o scaldacollo sempre con questo filato tutto a pallini questa parte l'ho lavorata con i ferri è un punto semplice sempre diritto e per abbinarla al cappellino gli ho fatto una piccola rifinitura giusto due giri di archetti da una parte e dall'altra qual è la particolarità gli ho fatto il buchetto in modo che la bimba lo può mettere attorno al collo e poi si chiude così senza bisogno di avvolgerla attorno al collo che poi i bambini si sentono infastiditi oppure non lo sopportano ecco questo è un primo lavoro ed è un lavoro da consegnare ecco un altro lavoro da consegnare sono questi due bavaglini questi sono due bavaglini fatti con punto croce come potete vedere c'è scritto nicollo al primo e al secondo con caratteri diversi disegni un po diversi e li ho fatti per una signora che me l'ha chiesto e che sinceramente neanche conosco ma gli ho fatto diciamo questo piacere e sono due lavoretti da consegnare molto semplice ma comunque anche questo mi hanno richiesto un po di tempo un altro lavoretto a cui ci tengo tantissimo è questo piccolo berrettino forse nel video non si vede sembrerà grande però in effetti è piccolo piccolo e per un bimbo prematuro l'ho fatto con il filato da baby sempre della della mamma figlia sotto vi scrivo come si chiama io ho messo una piccola targhettina e l'ho fatto con la mezza maglia alta in costina e poi qui ho fatto il piccolo bordino prendendo nella maglia alta dal di dietro dal davanti per fare una sorta di elastico e ho fatto la stessa cosa sul paraurecchi da una parte e dall'altra e piccolino piccolino perché questo bimbo a cui le voglio già bene è nato di sette mesi e piccolino ed effettivamente se non si trovano le cuffiette così piccole poi sono state impegnate sempre per il bimbo e le ho fatto con il punto croce questa bella borsa spero che si riesce a inquadrare bene ecco fatta è tutta impunturata tipo effetto trapunta con la sua bella tasca dove gli ho fatto il suo bel ricamino mamma il fiore più bello ecco a me è piaciuto come disegnino e anche le tonalità della borsa ecco la borsa io non l'ho cucita io si vengono già pronte io ho fatto solo i ricami però è molto utile per le mamme perché vi faccio vedere che diventa un fasciatoio ecco e quindi quando ci si trova in giro è facile perché può contenere il cambio e poi diventa un fasciatoio ecco questi due lavoretti e li ho fatti per un mio nipotino piccolo piccolo ma molto bello ecco forse riuscirò ad abbottonarla così come fatta e poi sinceramente le avevo fatto anche il fiocco che è venuto molto bello però non ce l'ho più perché il bimbo è nato in anticipo e quindi ho dovuto consegnarlo alla veloce non ho fatto in tempo neanche a riprenderlo ecco questi sono i lavori che ho fatto tra settembre ed ottobre spero di fare il più presto un video e speriamo di ispirarmi a qualcosa di carino io avevo promesso un bordo per lo bag penso che farò quello o una sciarpa uno scaldacollo per per l'inverno io intanto vi saluto se il mio video vi piace condividetelo con altre se vi fa piacere vi iscrivete al canale io saluto a tutti per la vostra gentilezza per il fatto che mi seguite e vi auguro una buona serata ciao ciao a tutti da una favola di fili